eccoci qua e con tutti i partecipanti questo brenta open siamo la nonna edizione e adesso si andrà verso il rifugio 12 apostoli quindi camminata oggi 900 metri di slivello e domani si farà un po' cima a 12 apostoli mi sembra di aver capito tutte le volte pensi qualcosa nei video che facciamo insieme ah non hai la voce non è la voce non posso parlare perché ciao ragazzi benvenuti a questa magnifica manifestazione caratteristica siamo qua nei pascoli caratteristica è luglio e quest'anno attrezzato la gamba in maniera diversa l'ho svuotata tutta e ho dentro del rame perché quando non ti lasciano pagare col posto in rifugio io gli do quello avevi paura ne le giorgia ma io ti immagino lì con le sabattine con le sabattine davanti al computer allee figata ciao bestia ma roba è così difficile l'ha fatta ancora beh ragazzo baita e casa ma in foto vengo bene lo stesso la fotocamera non sembra un po un pagliasso questa pausetta un po di pausa rifugiare dietro le mie spalle poi vi state facendo una smanzolata qua perché tu invece a bema ok ali ali van zing fuori dietro da qualche parte non so rifugio comunque stavo ragionando sul fatto che ci sono più telecamere che gambe in questo evento cioè pieno di telecamere e invece di gambe un video un po diverso dal solito ricordano il salvaggio blu in sardegna questi penitentes io di solito salto però non lo ho già però facciamo per festeggiare e si entra nella chiesetta insomma qua chiesetta sosa chugnetto siamo all'interno della chiesa commemorativa di tutte le morti in montagna è stata costituita su volere della soja degli anni 50 proprio con l'obiettivo di commemorare tutte le persone che perseguendo la loro passione sono morti in montagna perché si è possibile che non ci sono molto più se non ci sono molto più se è possibile che non ci sono ancora più se non ci sono molto più se non ci sono piaciuto se non ci sono piaciuto No, no, no. Grazie a tutti. Praticamente stai ritirando fuori tutto. Quella è mia. Ma è l'altra scarpetta? Allora, per chi sta facendo video qua bisogna spiegare che c'è la guida alpina che non trova le scarpette. Vado a fare le dati avanti. Non le mie. Che scarpette hai recuperato qua? Un paio di evolve. Ma sì, l'importante è che se ne evolve. Esatto. Ciao a tutti ragazzi stiamo andando verso l'attacco della via di questo Brenta Open stiamo andando a farla via a Teresona ragazzi venite con noi. Stavi e... Siamo proprio i maschiacci oggi. Ti stavo riprendendo. Ale e Kevin eh? Ciao Gio. Ale. qua dietro il nostro Henry via. Ok via. Ok via. Questo. E guarda. Ci ce l'ho fatta. lì dopo quando arrivi lì ti pigli le stampelle c'è l'Alberto che ti affianca e decidi te o con una o con due e un prato verticale il tuo terreno d'azione. mi sembra di capire che se si muove qualcosa si muove qualcosa di nuovo. Eh grossettino si quei due tre pilastri bene. C'è un cielo azzurro. Molto bello. Quasi in cima. Quasi in cima. In cima a 12 e Portole. Abbiamo fatto la via Teresona. Teresona. Col polso hai molto più leva e tieni meglio. La via Teresona perché si chiama Teresona? L'ho dedicata alla figlia del mio più caro amico che si chiama Teresa. Ah per quello. Ah l'hai aperta a te questa via qua? Sì le ho aperte tutte io però le ho aperte tutte così. Con i friend? No senza corda senza niente. Ah slegato. E aprivo e dopo e dopo sono venuto su e poi da sopra e io che vavo. Poi era disaccessibile ai comuni mortali. Ho delle bellissime vie vedete quella parete là in alto della cima d'agola che a sinistra c'è quel pilastro giallo e a destra c'è una riga nera che scende e lì ho tre vie prima mi sembra si chiami orso nero o orso bruno insomma ok poi quella di sinistra che è la più facile sarà più o meno 6A e si chiama orso grigio e invece quella quella in mezzo quella è tosta è difficile e sospiri perché insomma però sì però sono delle vie su roccia magnifica 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 e niente si sta partendo per la calata il nostro Armando qua dietro guarda Kevin Kevin visto Kevin dove ti porto vieni di qua con quella gambina con quel piedino a grattare sulla roccia grazie Kevin ciao Kevin tira tiraci un po' la corda quella sotto tira e si mette l'intenzione vado via dalla vetrina di un galà Germania dove tre vie con la maglietta rossa quella di Zagor bene sì viene con quella e una podetta e quando qualcuno gli chiede cosa serve quella quando andai in montagna la tetta ecco le mani il salame e lo affetta così tanto affetta grossa bresciana la tetta carne no poverino no poverino eh sono caduto una volta con la moto viva a c'è è qua io è qua è qua tutto in campo Grazie a tutti.